Non solo Pesaro, anzi prima di Pesaro. Salvo contrordine dell'ultima ora, la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia inaugurale di Pesaro Capitale della Cultura 2024, prevista il 20 gennaio alla Vitri Frigo Arena, sarà preceduta da una breve tappa a Vallefoglia per tagliare il nastro al Teatro Giovanni Santi di Bottega che diventerà auditorium per musica, cinema e attività teatrali. Anche oggi operai al lavoro per gli ultimi frenetici ritocchi affiancati ai sopralluoghi delle Forze dell'Ordine per l'arrivo del Capo dello Stato. Vallefoglia e la Giuntucchielli attendono dunque il più gratificante battesimo istituzionale alla nuova struttura culturale della città che sarà il fulcro della prima settimana del progetto 50x50 Capitale al Quadrato, quello che vede Vallefoglia fare da pripista come primo dei 50 comuni capitale per una settimana. Quella di Mattarella sarà una visita lampo fissata attorno alle 10.30, ovvero a circa mezz'ora dalla cerimonia della Vitri Frigo Arena. Il Teatro Santi sarà un nuovo polo multiculturale dedicato a ogni fascia d'età la cui direzione artistica è stata provvisoriamente affidata all'orchestra filarmonica Rossini. L'auditorium entrerà subito nel vivo con sette spettacoli nei sette giorni della settimana di Vallefoglia Capitale. Sette spettacoli fra musica, recital e teatro dialettale. Si comincia il 22 gennaio alle 18 con la leggenda delle due montagne di Mario Totaro, una favola peruviana interpretata dalla filarmonica Rossini.